Rapina a mano armata al centro scommesse intralotto sull'allungo Irno a Salerno. Il fatto è accaduto nella serata di ieri intorno alle 20. Due irapinatori in azione che col volto coperto da passamontagne e casco integrale ed armati di pistola si sono fatti consegnare tutto l'incasso per una cifra di circa 6.000 euro, dileguandosi velocemente a bordo di una moto e facendo perdere così le proprie tracce. All'interno dell'agenzia, oltre ai due cassieri, anche alcuni clienti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato che stanno visionando le immagini delle camere interne ed esterne presenti nei pressi del luogo dove si è verificata la rapina. Si spera in questo modo di poter risalire ai due irapinatori che probabilmente hanno atteso il momento propizio per entrare in azione alla fine delle partite di campionato quando tutte le scommesse erano già state incassate. Sono entrati questi due individui, avevano dei caschi, le pistole in mano e subito ci hanno intimato di aprire le casse e dare i soldi dell'incasso praticamente. Quanti erano? I ragazzi erano due. Ma c'erano clienti a quell'ora? C'era qualcuno, non tantissima gente, però era un orario che solitamente erano le sette e mezza, quindi ci sta la gente a quell'ora. Però hanno agito ugualmente, indisturbati. Questa zona è sicura? Pochi controlli? Controlli poco, purtroppo infatti, secondo me, visto che se ne sentono spesso ormai di queste cose, se siamo nel mirino, ci dovrebbero essere più controlli, più macchine della polizia, sentirci un pochettino più sicuri perché così non possiamo stare sempre con la paura, non è giusto, penso.